E' un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito l'ideale di Cosa Nostra. Per questo io non mi considero un pentito. Ho delle documentazioni per posso trovare che Buscetta è un bugiato. Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta. E non dite più che mio fratello. Chi non siamo spazi per quagin? Sì, no, chiedo io questo prasere. Che ti ricordo che hai baciato i miei figli e hai lasciato che li ammazzassero. Onnetto, ma! La sei sale! Onnetto, ma! La famiglia, per me, è sacra. Ma per me è vincibile. Non farò mano a mano. Avuto l'inizio avrò una fine. Ma per me è ass Ma per me è capaci così qui è avuta. Grazie a tutti.